Buon pomeriggio a tutti, oggi è venerdì 26 maggio, sono le 18.10 e abbiamo che Nasdaq, dopo la discesa auspicata, arrivata, ha iniziato a risalire. Ma come? Non era questo, anzi questo in realtà, l'ultimo giorno in cui si poteva salire perché questo è un raccordo di grado TP2 inverso che al massimo può durare 43 giorni? E sì, la mia provvisione era questa, per cui chi è entrato short e ha utilizzato il metodo, utilizzando come al solito i take profit, si è portato a casa dei soldi perché purtroppo il mercato è risalito ed è andato sopra i massimi che ci aspettavamo potesse fare quando era esaurito il tempo. E quindi come la giustifichiamo? È il fallimento dell'evoluta. Oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Allora, la mia prima interpretazione è stata, no, non dirmi che è probabile quello che sta succedendo su DAX, ovvero che non si possa fare come lato indice su inverso, ovvero che non si possa dividere in due un biennale inverso in due annuali inversi. Quindi la cosa, peraltro, va valutata, ci andrà del tempo e quindi ho dato per scontato che potesse essere semplicemente quello non avendo il tempo per andare a vedere immediatamente i grafici. Però, come si chiama già il mio canale? Si chiama circolo virtuoso, ovvero è un posto riservato a trader pro che conoscono almeno la ciclica base o persone che con umiltà vogliono imparare da zero questa analisi, perché altri rischiano di non capire nulla di questo canale. Per cui, come vi dicevo già tempo fa, ci sono due tipi di persone che hanno o meno una vita differente l'uno rispetto all'altro. C'è chi si lamenta e che sbraita e tutto il resto, ok? E quelli continueranno a sbraitare probabilmente per tutta la vita. Poi ci sono quelli che invece, conoscendo il metodo, dicono, caspiterino, ma com'è possibile? Aspetta un attimo. So che Jacopo è ben preso dagli impegni. Facciamo una cosa. Andiamo a vedere perché. Andiamo a vedere che cosa è successo. E quindi, che cosa succede? Mi vengono mandati dei messaggi in cui mi si mandano squadrature alternative. E attenzione, se ben vi ricordate oltretutto, ho centrature che tornano tanto indietro sui mercati, su tutti, tranne che su... Tranne che su Nasdaq, perché Mib e DAX sono oltre sei anni di centrature e di tutto il resto. Nasdaq mi è stato chiesto di recente, non è che avessi questa grandissima voglia di farlo, perché intanto andavano tutti a braccetto. Poi ci ho preso gusto, ma ho dato per scontato che questo fosse il massimo da cui era partito un nuovo ciclo pluriennale. Qui parliamo di minimo 3-5 anni di inverso, ok? Perché mediamente è il massimo assoluto che si prende. Per cui non mi sono mai messo a fare centrature come vedete precedenti. Qui però ci sono 24 barre e, se avete guardato bene il messaggio di Whatsapp che mi è arrivato, dalla regia, ovvero da qualcuno che è stato istruito a dovere su quella che l'è voluta e che adesso trada per i fatti suoi, senza nemmeno più avere bisogno di me, mi viene detto una cosa molto semplice, perché qui c'è il resto della centratura. Mi viene detto, Jacopo, guarda, può essere così, ok? Che qui ci sia stato un raccordo di grado t più 2 inverso tra un annuale e un annuale, anzi, pardon, che qui ci sia soltanto un annuale inverso, che raccordo, nessun raccordo, ok? Che sia terminato qui, vediamo, ok? Neanche il raccordo, scusate ma oggi veramente sono talmente di corsa che faccio questo video per rispondere alle persone, togliamo, ok? E per iniziare a impostare quello che è il discorso di lavoro. Allora, fare insieme le cose permette di comprendere come si fanno e avrei pagato oro per poterle fare con altre persone un tempo, tra cui un trader napoletano che ancora ringrazio perché, ragazzi, di ciclica ne sa tanta, conosce molto bene la ciclica, ha conosciuto il migliorino, per cui è una persona che mi ha aiutato e con cui adesso anche mi confronto, anche lui si aspettava di basso, ma questo è un discorso. Ok, questo è un annuale inverso, ok? Questo è un secondo annuale inverso, che potrebbe essersi chiuso anche qui, ok? Dovevo fare le mie verifiche. Qui bisogna andare a vedere se ci può stare appunto questo movimento che o fa parte dell'annuale inverso, perché siamo a 195 barre da qui a qui e arriviamo invece a 219 qui. C'è la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura? Va controllato anche quello, ok? Se facciamo, anzi, questo lo lasciamo qui per carità, ok? Se facciamo iniziare il nuovo annuale inverso dopo questo movimento, che sembrano tutti sempre molto raccordi, alcuni poi lo sono, altri non lo sono, ma ribadisco, è un primo approccio, non è la soluzione definitiva, ci devo riflettere sopra, devo avere tempo, ma questo weekend non so neanche se riuscirò a fare le analisi su S&P 500, perché sono impegnatissimo, ok? Se facciamo partire da qui sopra l'annuale inverso, a quanto tempo siamo arrivati di annuale inverso? siamo arrivati a 356 giorni, ok? Quindi siamo oltre il tempo comunque canonico, siamo oltre i 336, e quindi, e quindi, qual è la soluzione proposta che deve essere verificata, che è stata proposta, da qualcuno che invece che lamentarsi e non combinare niente fa ben altro, aguzza l'ingegno e si muove, vediamo un pochino, perché, ok, se facciamo così abbiamo 41 barre, giusto, 41 barre, perfetto, se togliamo questo da qui, ok, perché questo può essere un raccordo, sì, era già quel raccordo di cui parlavamo, a 41 barre, poi quando abbiamo continuato a salire, ho pensato che fosse questo, ok, che fosse così, ma, se invece, tutto corretto per le regole, fermiamo qui il nostro raccordo qua, scusate, non raccordo, il nostro quinto t più, t più 2 inverso, mensile inverso, da qui a qui, quindi 41 barre è corretto, noi da qui possiamo spostare questo, e vedere che sia da qui che parte il raccordo inverso, il raccordo inverso che è arrivato a 38 barre, per cui, facciamo così, iniziamo a ragionare così, ok, non so se sia il modo corretto, perché devo controllare l'accordo, devo controllare le cose, devo rivedere tutto, ci va del tempo, mi dispiace, non sono superman, e non riesco a stare su tutti i mercati in contemporanea, devo viaggiare con gli allarmi, questo sarebbe un altro, un quarto t inverso, se non sbaglio, ok, così, così, non devo ricorrere al discorso del non detto nelle regole, dei raccordi, scusate, non dei raccordi, cosa sto dicendo, del non detto, delle regole che ci sono tra indice e inverso, e in questo momento posso dire che abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per continuare a, per chiudere tutto un annuale inverso con l'aggiunta di un raccordo? Sì, assolutamente, abbiamo ancora 5 giorni eventualmente per continuare a salire? Sì, ce li abbiamo, ok, e, perché arriveremo a 43 barre, massimo di durata del raccordo di grado t più 2 inverso, mensile inverso, uguale fino al massimo, salita fino al 5,6, ma qui abbiamo già la condizione necessaria e sufficiente per chiudere questo raccordo di grado t più 2 inverso, sì, ok, perché, perché anche l'ultimo settimanale inverso è arrivato a 11 barre, durata massima, quindi, vogliono riaprire martedì, attenzione perché non sarà lunedì, ma sarà martedì c'è la festa, vedete che c'è scritto anche martedì sotto, martedì 35, vogliono riaprire martedì 35 e fare ancora spike, ma candela rossa iniziare poi piano piano a scendere, possiamo avere un raccordo di grado t inverso, settimanale inverso, che minimo dura 6 giorni ancora da attaccare in coda questo mensile inverso, che è un raccordo inverso, che è una finta a ribasso con rialzo, perché un raccordo è una finta a ribasso con rialzo, 6 di inverso, no, non possiamo, tempo finito, di nuovo, ok, perché? perché è vero che possiamo arrivare a 43 giorni, ma o troviamo una certiatura alternativa di inverso, che non ci dica che l'ultimo t inverso è partito da qui, e non può che essere terminato a 11 barre durata massima di un settimanale, oppure il tempo è scaduto, non possiamo aggiungere un t inverso di 5 giorni, non c'è, ok, per cui, quello che vi ho fatto vedere era per farvi comprendere dove dovremmo essere, a che punto dovremmo essere, per farvi capire dove poteva stare l'inghippo, ma devo verificare tutto, ok, devo avere il tempo per verificare tutto, poi vi potrò dare la risposta definitiva, ovvero, per quanto riguarda l'inverso, non si possono scomporre i biennali inversi in annuali inversi, come invece si può fare per indice, cosa che non è scritta da nessuna parte, quindi abbiamo dato per scontato che fosse così, DAX in questo momento ci sta dicendo che probabilmente non è così, quindi zona grigia, non che sconvolgiamo l'evoluta, disastro, un fallimento, no, assolutamente no, bisogna soltanto controllare e vedere che cosa succede, in modo da capire come funziona l'inverso, che è la parte meno conosciuta, meno utilizzata, se andate a vedere ci sono tante altre persone che utilizzano la ciclica, non l'evoluta, e ce ne sono tantissime anche di vecchia data che non utilizzano l'inverso, ok, per cui la parte più nuova, tra virgolette, anche se non è così nuova, relativamente ai cicli, e quindi dobbiamo iniziare soprattutto a comprendere una cosa, noi siamo operativi, ok, se c'è la possibilità andiamo a caccia, la prudenza come avete visto non è mai troppa, quindi sempre take profit e stop loss, chi ha seguito la tecnica, compreso un collega, ha guadagnato estremamente bene anche perché ha sbagliato, dopo aver chiuso lo short, invece che chiudere l'operazione ha messo il doppio dei future ed è andato long, si è sbagliato la mattina, aveva fatto persino il doppio dell'operazione fatta con lo short, che era già tanto, ok, per cui a parte questi colpi di fortuna che si possono avere seguendo il metodo, ok, a noi interessa adesso comprendere il discorso relativo all'inverso, la zona grigia dell'inverso, una piccola cosa che però fa una differenza e capire se qui appunto a partire da martedì in avanti si inizia a venire giù, tra l'altro avete notato che praticamente tutte le notizie erano negative e continuavano a salire, come è possibile? Vi ringrazio per il vostro tempo, spero che tutte queste informazioni matematiche che non sono opinioni, qui non diamo opinioni perché non servono assolutamente a niente e vale l'una al contrario dell'altro, vi siano utili per comprendere come davvero si muovono i mercati, ovviamente sì, corretto sì, con il metodo guadagnato, ok, ma perché siamo andati qui su? Lo scopriremo nelle prossime puntate, ok? Vi auguro ogni bene, vi auguro uno splendido weekend, il mio lo sarà sicuramente perché ho tante cose in progetto, arrivederci!